Eventuali commenti che vanno su Twitch io non li vedo qui Eh non ti preoccupare, li vedo io Fugo, siamo live per i nostri zero spettatori No, dovresti forse aprirti una finestra di Twitch per vedere in parallelo Però se hai la connessione a Scrausa tra l'altro Eh no, ma in download dovrebbe reggerlo in realtà Un attimo, è che provo Minchia Fugo, siamo live, stai emozionato? Eh un po' sì, oggi sicuramente sì Bene, bene, allora chi siamo e che cosa facciamo? Giocatori di vecchissima data, troppo vecchia E cosa vogliamo fare? Ci guardiamo insieme un po' di partite storiche del 3, del 3strike Il gioco degli dei E le commentiamo Vediamo se abbiamo Ah beh rimarrà archiviato penso Sì 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 ma infatti questo poi è un primo test E cazzi vale Però insomma ci possiamo comunque vedere qualche bel match storico E commentarlo insieme E commentarlo insieme Perché insomma E sports, e sports, tutto bellissimo Però non dimentichiamoci che il bello Di questo accostamento secondo me giusto agli sport È il Tutta l'epica che c'è dietro Assolutamente sì Sono leggende di interazioni umane che si protraggono negli anni Esatto Rivalità storiche Dietro la vittoria di un torneo Non c'è solo la vittoria di un torneo Perché Tizio si è allenato particolarmente su quel gioco Quell'anno C'è tutto uno storico di sconfitte Grage Eh sì sì Poi specialmente in Giappone anche Chi viene da una zona o da una certa sala Rivalità aveva con quelli che frequentavano altre sale Erano come delle squadre Quindi ciao zio Omega che saluta sia me che te Ciao Omega Eh sì sì ma infatti poi tra l'altro uno dei miei Delle mie Cooperation Cup preferite Perché insomma quando parliamo di Third Strike Parliamo di Togeki e Cooperation Cup fondamentalmente Sì Sono il pinnacolo del pinnacolo Esatto Una delle mie Cooperation Cup preferite È la 11 del 2013 Quella con il 12 che vince Ma non solo Quella con la Non solo Sì sì Per cui cerchiamo di vedere Per me anche RX Insomma sì sì È memorabile È memorabile Possiamo vedersi la finale tra l'altro Secondo me Sono 25 minuti Eh ci sta Ci sta Al bacio Quindi Cazzo ben due spettatori Fugo Questa Che emozione È solo l'inizio di un'esplosione Di popolarità Tra l'altro ci stanno pagando Si sono iscritti Ci hanno versato Sì sì A manetta Hanno già fatto il bonifico Facciamo un Patreon anche Sì sì Dopo Dammi un attimo Lo sto già Va bene va bene Mi stai patronizzando? Aspetta un attimo Fai un secondo Vai vai Intanto preparo Preparo lo schermo OnlyFans Grazie 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 per il suggerimento Lo prenderemo In seria considerazione Allora Fatemi condividere Un po' lo schermo Possibilmente Senza far danni Quindi abbiamo detto Di guardarci La finale Eccolo qua La finale Della Corporation Cup 11 del 2013 Allora Mi piace un casino Perché Come vedrete adesso Scusate Era già iniziata È tutto È tutto così Artigianale È tutto È tutto Fantastico L'hanno giocata Al quinto piano Della Versus Quindi la Versus È a Nisci Nippori In mezzo a due Love Hotel Praticamente Ed è al terzo piano Di questo palazzo Un po' strano Grande ambiente Sì Non adatto A chi non ama il fumo Magari Perché È una energia costante Esatto Poi al quinto piano Ogni tanto Il quinto piano Lo hanno affittato Per fare Per fare Dei torneoni Di questo tipo Tra l'altro Ricordo carissimo La prima volta Che sono andato in Giappone Nel 2010 Quindi tre anni Prima di sta roba qua Corporation Cup Si svolgeva proprio lì Ed era un ambiente micro Cioè in confronto A dove la fanno adesso Abbiamo fatto un salto Sì Ma la Corporation Cup È proprio cresciuta Negli anni Poi Sì In maniera esponenziale Incredibile Rispetto a Al fatto che comunque Il gioco non era Nei circuiti sports Perché No no E questo vuol dire Che è proprio La forza della passione Che va al di là Del denaro Vive Esatto La passione Che vince sul denaro Quanta epica Che abbiamo In queste dirette Fuoco Comunque Partiamo Insomma Camera che si muove Tutta a cazzo Mi sembra di aver visto Per Rai Anche Sì C'erano gli americani Seduti lì per terra Ferrai Ryan Un altro po' D'altra gente Avete visto Che c'era Il Il Come cazzo si chiama La segnone gigante Di MOV Che aveva appena vinto La Capcom Cup Come cazzo si chiama Sì si si Il mondiale Dell'anniversario Esatto Il 25esimo anniversario Di Street Fighter Aspetta un attimo Metto in pausa Non capisco perché c'è un coso bianco Ma Raccontiamo un po' I due team che sono arrivati In questa finale Allora Non so se te li ricordi a memoria L'elenco Mi ricordo Vabbè 12 era Bistakio Bistakio infatti Allora Ti dico io Non spoileriamo chi vince Poi alla fine Bistakio 12 Cushun Cushun La mia Cushun del cuore Per sempre RX Wurien Nel mio cuore Direi Benissimo Sugiyama Necro Sugiyama Necro Vabbè Eh vabbè E Roshi Ikari Young Il mio Young preferito Anche il mio Tra l'altro il primo top giapponese Che ho affrontato Quando sono stato io in Giappone Mi ha arato Ecco l'estate scorsa Era la La Koenji Cube A rompere i coglioni E infatti non siamo riusciti A scollarlo Dal cabinetto Per Eh sì Un po' difficile Per due ore Al che con gli americani Cosa fai? La butti sul bere E poi Non è che i risultati migliori No ecco Dall'altra parte Fammi vedere Se riesco a fare una magia La Makoto era Era Mi Morino Eh sì Dal colore ci stava Però non ero Aspetta ti dico subito No Non riesco a visualizzarlo Perché Insomma Capitemi Ah no Ho sbagliato Video Fermi tutti Eccolo Allora Mi Morino Rikimaru Allora Aspetta 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 C'è molto di più qua Fermi tutti Questo era un team Mostruoso Cazzo Eh sì Eh sì Era il team favorito Direi Sì Era God Power Boss Con Mi Morino Dove c'era Boss Yun Perché Perché no Rikimaru Chun Come vogliamo inquadrare Rikimaru Chun Beh poi nel 2013 Eh Rikimaru Prime Nel 2013 L'Achun numero uno Direi Sì sì Rikimaru Icona Prime Su FIFA Sì Aitani Makoto Eh sì Tanto per Ma infatti potrebbe anche Essere Aitani Questo forse No 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 Poi c'è Mimora Makoto Mimora Makoto Nera Che è la Makoto più spettacolare Secondo me Sì la più La più tecnica Hands down Non vince mai Però chi se ne frega E poi Tominaga La Makoto più cheap Quindi tre Makoto Minchia che odio Di cui Uno Una delle divinità Assolute L'altra La Makoto più cheap Mai vista L'altra la più tecnica In più ci metti Un Chun E una Yun Salvaccio Al bacio Insomma L'ha già vinta Fondamentalmente Si parte contro Un Twelve Tra l'altro sai che Davvero non mi ricordo Come sono andate Gli incastri Per cui non so Se ha vinto Eh esattamente Non me lo ricordo Manco io Vediamo Il distacchio Tra l'altro uno che usa Twelve dal 99 Direi Si è sempre visto Che anche Che pazienza Ci vuole E non si è ancora Rotto il cazzo Comunque si È Mimorino C'è scritto in alto A destra Eh sì sì Ora lo vedo E qui vabbè Sai il gioco Che deve fare Twelve È essere sfuggente Non farsi toccare Poi sai Non farsi toccare Contro Makoto È una bella parola Rompere il cazzo Però adesso L'ha grabbato L'ha pinnato per terra Sì sì Parte l'occhi MP a più 5000 Oh Ground Cross Up Caracusa Ciao Quasi Omega dice Che le Makoto Sono tutte cheap Tra l'altro La gente sta usando Delle cose Che non capisco Delle iconcine Con gente strana Eh vabbè Povero Twelf Mi sa che non può fare Un cazzo Non può fare un cazzo Vabbè Primo round Come ce l'aspettavamo Tra l'altro Guarda la qualità È come ascoltare La musica in vinile Sì È il livello di nostalgia È quello Sì 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 Vabbè Missile ex A caso Non sta funzionando niente Per il povero Twelf Del resto No no Ma rompe il cazzo Rompe Il problema è che È zanzarissimo Proprio È che devi entrare 56 volte Esatto E contro mi mora Non è proprio banale No no Ma sta anche giocando bene Direi Vistacchione Sì sì Fa il suo Tra l'altro mi sa che ne ha vinte Di partite Durante Sì durante la coppa Di sicuro Ora qui non mi ricordo Ma Qua sembra E questa Peccato È lì un attimo In ritardo Perché come anti-air È buona Lassù Esatto Ci abbiamo creduto Sì forse Il problema è che S'aspettava l'ax kick Forse Ah sì Quello l'avrebbe preso Il problema è adesso È che per Eh per togliere Quei due centimetri Che erano rimasti A memorina Non gli sarebbe bastato Entrare con qualcosa Comunque Con le mascherivelli La previsione Già del covid Lo sapevano È un complotto Lì abbiamo visto Rikimaru Informissima Esatto Rikimaru Che dice Bravo Bravo E questo è kosho Ragazzi Allora è sempre vestito così Sempre con quell'occhiellino lì L'ho visto quella volta Nel 2010 Tra l'altro Sì sì Ma nel 2002 Era già così È eterno Una delle cium Più stupide A livello di esecuzione Ma anche più sublimi Per le cagate che fa Voglio dire Che io mi sono ispirato molto A quella cium È proprio È proprio bello da vedere Perché Cerca di fare cose complicate Anche quando non servirebbero Sì 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 A caso proprio Sì sì Per il gusto di intrattenere Quindi Con un personaggio del genere Non è per niente scontato No no Ma Cioè poi è il primo A cui ho visto fare certe figate Già Negli anni proprio Primordiali Qua Però è in via busca già Eh sì Si è fatto poppare il cervello Due volte Qui ha cancellato lentamente Con la mimora I stompli usa spesso Kosciun Beh Anche tu infatti Insomma È questo È questo round È un round Sì Ma ci sta che una Kosciun Che una Chun Non top Come Kosciun Perda da una Da una Makoto Di sto livello Sì sì Tanto ancora Non ha usato la SA1 Per vincere il primo round Ecco Guarda che cosa Che cosa ha fatto Oh qui ha droppato il Confirm Eh Se no era un Carlone Forse Incontro con Film di Kosciun Semplice Presa dopo il Reset Che ci sta sempre Qui Qua Kosciun Sta manzo Sapeva che quell'altro Avrebbe saltato Però Niente da fare Tra l'altro C'è il commento Rikimaru In brodo di Giugio Le ha già vinte C'è il commento Di Di Mazzu Da sotto Quindi Il commentatore Dio Originale Eh sì Eh sì Non ha Non dà l'hype Che dà Nuki Nel commentare Devo dire Però Mazzu Da è sempre Mazzu C'è il commento C'è il commento C'è il commento Allora RX Sta Sta discutendo Sì Sta discutendo con chi Con Suyama Forse Sì E dicono Vado io vai tu Che cazzo facciamo Rikimaru se la ride Con la sua camicia a strisce Rikimaru ha già vinto Tra l'altro Rikimaru L'anno prima Indossava una maglia Che inneggiava Bin Laden Tipo Gliela avevano fatta cambiare L'anno dopo L'anno dopo Perché erano già Nell'altra Nell'altra cosa Ecco Rik Questo è un match up Che odio Da giocare Veramente difficile Urien può fare male A Makoto Sicuramente Eh beh Sì Urien può fare male Quello non c'è alcun dubbio Però Noi iniziamo col vittimismo Da No 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 Infatti Ma è fattibile il match Però è molto stressante Da giocare Ecco Vogliamo dire tra l'altro Che Rikimaru È il giocatore più forte Di questo team Metterlo come terzo Dopo due partite perse Sì Grande mossa Ma scommessa anche Scommessona Qui usa molto E qui Grande lettura Combo semplice Ma Tiene Mimorina all'angolo Specchio Safe Questo è il bello del 3 Perché lui con quella roba lì Gli ha detto Caro Mimora Io sono a posto Sì sì Ti leggo nella tua mente Quindi Come un newspaper Facciamo anche il secondo round Ma non servirebbe Qua sbaglia Però ok Sì era un tentativo di escaping Era per Mimora Punito come poche Makoto fanno In quella situazione L'angolo U Riuscito a scappare Fatta per sbaglio Quella Quella spallata O No no Si fa Bisogna reagire Presto per scappare Non è facile Perché qui È una bella stringa Con due specchi E Ah beh Commenti Commenti dai nostri Solido Adeguati Ma tu vedi i commenti sotto Che metto ogni tanto No no Tengo dietro La chat di twitch No 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 Se tu guardi Dove stiamo streamando Sì Ah sì Sì Ora comparsi Guardavo La partita Quindi Sì si Compaiono Rx Con Chiede scusa Comunque Nel dubbio Mi mora Gli outfit Improbabili Di Di Tommi Naga Che gli indica Boh Non so Una beccata Con la mano Era Mi Mora Che gli diceva Probabilmente parlava Del matchup con 12 Sì Ecco vediamo Allora Ma patina rosa Sai quando l'abbiamo Sai quando abbiamo scoperto Tommi Naga Te lo ricordi? Eh No non mi ricordo Devo dire 2009 C'era Mi sembra C'erano Togo Leva E Fran Altogeki Ospiti che hanno provato A fare Last Chance Sì Questa cosa Mi ricordo Team Last Chance C'era un team Con Tommi Naga E Fran Ci ha detto Questo giocatore qua Nessuno L'ha mai sentito Ma figa Se è un legno Se è un legno Una roba del genere E da lì Abbiamo capito Che C'era Stato E da quel momento Da quel momento Tommi Naga Si è visto Sempre Anche perché Non ha mai smesso Di giocare No 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 Qui Andiamo a Rx Che Stai molto Attento Perché anche se In vantaggio Però Se l'hai gestita Bene Ma possiamo dire Che sono proprio Su due categorie Diverse Sti giocatori Magari Saper giocare così Al netto Dei furti Di Tommi Naga Che si possono stare Sempre Qua proprio Si Qui Ma si vede Che comunque Entrambi hanno Molto rispetto Dell'altro Sanno che Si salutano Se fai una cazzata Siamo Instant kill È abbastanza Eccola qua La cazzata Cioè cazzata Qui però Ha droppato Il link Rx Capita anche I migliori Quindi Figurati a me Ah si Su di te Non dubitavamo Mi so Autotrollare Abbastanza bene Ci sta Fu Ottima Ottima parata Di Tommi Naga Qui però Ci casca Con lo specchio Messo di Ah Drop Strano Drop Di Rx Ma E qui Abbiamo un po' Una spalata Che ci sta Però Rischiava Perché Se gli faceva La Perry Era Ecco Gli americani Gli occhiali alla Fang Ma chi cazzo è Fang? Fang è il personaggio Del 5 Lo so Rikimaru preoccupato Parla con Boss E quell'altro E gli dice Tizio Vai vai A Itani Mandiamo Mandiamo A Itani Va tre Makoto Di fila Così A Itani Tra l'altro Hai visto Le norme di sicurezza A Itani Aveva la mascherina giù E se l'hai messa su Per giocare Non si capisce Quale ragione Ha paura di contagiare Lo schermo Non so Ha subito Sweep a caso All'inizio Tanto per gradire Comunque Nel caso Non fosse chiaro A qualcuno A Itani È Gesù Cristo Sì A qualunque gioco Sì Ma sai che io Ci ho giocato A Cooperation Cup Appunto 2010 Nel Praticamente Mi hanno fatto iscrivere Con un team blend Sì I rimasugli Nel girone C'era il team Di Quindi la pre-coppa Era sì 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 Nel girone C'erano le Makoto Di questo qui Di A Itani E A Itani Sono riuscito A non farmi Carlare A posto così Due round Molto veloci Onestamente A Itani Porta a casa Il primo round Tra l'altro Tre Makoto Con tre stili Molto diversi Sì Beh è bella Sta roba del tre Cioè che i giocatori Veramente vengono fuori Con il loro stile Non è tutto Setup 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 Stemmenazze Di giochi moderni Insomma Sai come la penso Sì sì Assolutamente Vediamo qui A Itani qui Si vede che Proprio è più concentrato Sul tenere RX all'angolo Che non a fargli danno Sì Oh io veramente Non mi ricordo come Beh ok Qui ha sculato RX Proprio attivato Con CHP A caso Ma ci sta Ci sta Ci sta Mezz'ora che provava Di uscire Provava a uscire Dall'angolo Partizione Non gli è uscito Lo specchio Però Uh come l'ha vista Questa La spallata A cazzo Per anticipare Il dash La spallata Scusate È stata Qui Uh Uh Eh va bene Eh beh 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 È questo Il calcio RX Esatto Lui funziona sempre Quando lo faccio io Muoio Sembra una chicca Che lui si è studiato Proprio per quella situazione Lì Vabbè è utile Perché si muove Indietro Quindi schiva le prese E anche molti light Adesso Fugo Dimmi onestamente Come lo trovi Questo match up Un legno Bene Quindi questo È un legno Se lo Yun È forte Ovviamente Ecco Ragazzi Questo è Boss Che vabbè È un giocatore Leggendario E che ha vinto La prima Cooperation Cup Un miliardo di anni fa Con Yang Tra l'altro Quindi è uno di quelli Proprio multigiocatore Multipersonale Anche multigiocatore Ha più personalità Ha usato Veramente Ad altissimo livello Yang Yun Makoto E pure Ken Ah la 100% Di Makoto L'ha scoperta lui Ricordi Ah sì Ah non lo sapevo L'ha scoperta lui Ha scoperto La keeper jean Di Yun Ah Perché poi L'ha perfezionata Keeper Cosa gli ha rubato qua Torna un attimo Indietro Di 5 secondi Scusa C'è stato uno skip frame Sì Sì Che No Ancora Ancora Vabbè Sì Non ha Qui Un secondo Un secondo in piedi Proprio Una frazione di secondo In piedi Senza far nulla E ha detto E beh E' confermabile Il CMK Dei gemelli Sì Quindi Probabilmente Era proprio Un hit confirm Maledetti Maledetti Side switch Finisher Che carica Un sacco di barra Oh tra l'altro Se non mi salva Sta live Mi incazzo Oh Qui Secondo me Errore di boss Qui Ha saltato male Mi sono distratto Perché Devo dire Che ha un Un disinteresse Profondo Verso Yon Cioè proprio Rx in gran forma In questa giornata Direi Era proprio Sì Oh Qui gli è riuscito Il link Che prima aveva droppato Contro Dominaga Mi pare Rx Ma è più così Cioè Attenzione Mi sa di no Sì Credo che sia stata La sua performance top Sì E quindi no Sì Non me ne frega Un cazzo Se hai il game engine Io tiro la testata E entro Esatto Sugiyama Tra l'altro In brodo di giugiole Assaggia la vittoria Però si siede Rikimaru Rikimaru è un brutto cliente Chi è che manca Dopo Rikimaru? È l'ultimo Ha Ha Taisho È l'ultimo Però Rikimaru Ha una storia Di OCV Infinita Non mi ricordo Che torneo Era che aveva fatto Che era Un 15 contro 15 Aveva fatto 14 win Lui mi pare No 15 contro 15 Era mica Un dadley Contro Makoto No 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 Proprio Tipo Ah ho capito Un side Di un torneo Un side Di un evento Forse del Babanpaku Si può darsi Che erano due team Da 15 Però 14 wins Le ha fatte lui così Allora Rikimaru non gliene frega un cazzo Gioca la Chun-Li Più quadrata Che possiate vedere Nella vostra vita Spietato Sì Non prende un rischio Sempre alla distanza giusta Quello è il bello Lì Così così Non è uscito il cancel Delle gambe Secondo me Probabilmente non aveva neanche in testa Di farle E comunque C'è questo spacing Allucinante Vedete come cerca di tenere Come si chiama RX In quel box lì Non si avvicina Quell'altro salta come un deficiente E Con Back HP Gli staffi tutto Ecco Sì sì Poi le dicono Usa tutti i tasti di Chun Rikimaru Proprio Tutti Quasi Sì Classe Farle gambe Classe Sì sì Caratro E qui Non si può fare un cazzo Diciamo Voleva portarsi a casa al round Vaffanculo Usate la stasù per cazzo Tanto c'è sempre tempo per rifarlo Esatto Sì sì No poi Non è che avesse tanta vita Quindi andava chiuso quel round Sì Anche perché il RX era uscito da Dio Da quel gioco all'angolo Lì con un dash Calcetto Spallata Non banale Dunque Non ha fatto il confirm Ricchiamo Gambe Sia per rompere lo specchio Che per impedire La voglia di fare qualunque cosa Che per rompere il cazzo Camminata all'indietro con film Questa la usi tanto anche tu Tra l'altro Eh sì eh Sì sì Oh Diciamo che Tolto Ma un po' come i nostri match No? Più o meno Uguale uguale Tolto RX Questo è Mazzuda Tra l'altro Quello che ha il microfono in mano Tolto RX Dalle scatole Rimangono Sugiyama Necro E Roshikari Young Che tra l'altro è disperato Sì Vai tu Vai tu Sì E parte Sugiyama Sì che in quel periodo Nessuno voleva affrontare Rikimaru direi Eh no Ma soprattutto se c'hai Necro Un commento sul matchup Necro Allora Vediamo Rikimaru come si carica Premi Sai che questo matchup Me l'ha insegnato Taro Chin Taro qualcosa Alla Mikado Abbiamo fatto team insieme Nel mio giorno migliore Probabilmente a livello Telestrike Perché avevo battuto anche Quel Goki sfigato Non mi ricordo Vabbè Quello per latino Zabi? Sì Sì Che aveva detto Gaijin Pressure Gaijin Pressure Sto matchup Me l'ha insegnato Taro Chun-Li Perché Mi ha detto semplicemente Oh Wait E fa Back pugno forte Fai barra E non stare a romperti i coglioni E qui vabbè Queste Red Perry di Rikimaru Che fa proprio In scioltezza Rischiando di prendere Se una stancombo All'angolo Quindi Tra l'altro Vabbè qua Da una distanza Imane Riesci a metterla su Per Gambe partizionate C'è proprio in scioltezza Rikimaru l'ha vinta L'ha già vinta Perché poi Voglio dire Yang Non è che Sia questo grande ostacolo Vedi che sta lontano Sì sì Sugi ha due barre Che per carità Se entra Una combo E un mix up Può stannare Chun-Li Oh Vedi che neanche Rikimaru punisce Il giu calcio medio Entrato Ah buona Eh non è facile Comunque bravo Qui anche Questo si può punire Anche ma non è facile reagire Anche il pugnone Dalla distanza Pure se è entrato Da certe distanze Mi sa che lo punisci Sì 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 Infatti Peng Peng Mi ricordo che mi diceva Che era 9 a 1 Il match up 12 a 4 Confirma Dalla distanza Poi però Succede sta roba Sì sì Sugi Si porta il round A casa Però Rikimaru Quasi due barre Ah sì Questa è la lezione Che mi ha dato AFM Aspetta La dico dopo La dico dopo AFM Che ricordiamo Che abbiamo scoperto Dopo anni Che è la sigla Di Anal Fucking Machine Sicuramente Sicuramente Non l'aveva dichiarato Ah sì 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 Certo Era proprio Sull'iscrizione Di una cooperation cup Un nickname completo Però No Eh non aveva barra Questa mi ricorda Mi ha ricordato Me contro Fran Nel 2008 Che mi poteva punire Quando non aveva la barra Per cancellare In super Allora La fermo qua Così Bellorrettissima AFM Stavamo facendo L'ultima partita Del free play Alla versus Della domenica Che non credo Lo facciano neanche più Di fronte Cioè Stavo giocando Contro Matsuken Che usava Yun Giallo e nero Perché Non lo so Praticamente Vinco il primo round Bene Proprio pulito Mi distrugge Il secondo round Però AFM Mi dà un tocco Sulla spalla Mi fa Mi indica le barre Mi fai due barre Faccio Cazzo Hai già vinto L'ho già vinto L'ho già vinto Infatti ho perso E vabbè Ora siamo al match decisivo Ultimo contro ultimo Non ho mai battuto Matsuken Ci credi? Beh È plausibile Ci credi? Sì 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 Oh Roshikari Spaventato da morire Perché chi non sarebbe spaventato Contro questa bestia Tra l'altro Nekimaru è pure Un tizio Che ti burla dietro Uno che ti spaventa Proprio anche fisicamente Sì sì È una presenza Imponente Roshikari È un timidino Che si compra le camicie Ad Harajuku Cazzo può fare? Cosa può fare? Beh nel gioco Nel gioco Sa rompere il cazzo È abbastanza bullo Devo dire Però sempre timidino Sì sì Rikimaru si concentra Ma ogni tanto evidenzia Un commento a caso Tipo sto cazzo Di tutela Che è sempre buono Più cheap Così a caso Qui si prendono tutto il timer Per la selezione Roshik Che non usa Non usa il 6 a Yenbu Contro Chun E spesso Guarda come lo frega Questa è una delle mie partite Preferite di sempre Beh ma Young Finché Chun Non ammettere Devo dire che Questo vale per tutti Però Sì 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 Certo in generale Però Young Secondo me è molto efficace Però partire con un Carlo È un Anche Fa morale Il Carlo fa morale Finora perfetto Roshik Sì sì L'ha tirato giù Senza fargli manco Caricare una barra Eh però Qua Si è preso La Zanshu Si è preso La Zanshu Si chiama così Che è Quella roba Che le Chun Usano Per vedere se l'altro È sveglio Fondamentalmente Cioè C'è una mossa Par Ok Vabbè Una mossa Parabilista Ha schippato qualche frame Si è schippato qualche frame Sì la Zanshu Ci andrebbe fatta Perry Però non è facile Farla sempre Questo è un round Mostruoso Siamo al round Decisivo di tutto il torneo Ultimo round Ultimo match Ultimo round Ex Barely safe Vabbè Vabbè Sì E questo a livello A livello di morale Pro Roshi La scelta giusta Ha scazzato la cara No era troppo distante Pazienza Jun può partire Può punire Gli Slash X Comunque Qua è finita Perry sul dive Qua è finita Reset Indovina Roshi L'opzione With punish Sul CMK Che è Incredibile Cosa inventa Oddio Gli fa fare il ciao Gli fa fare la presa E qui la gioia comprensibile Di un team Di un team forte Ma che non era favorito Più che altro Per la selezione Dei personaggi Un 12 Un necro Una chun Scarsa Ora Scarsa non esageri Uno yang No Alla casa dei giochi Darebbe fastidio Le mutande Di Rikimaru Di spiato L'ha presa benissimo Sì Secondo me Sì Caro Fugo Devo dire Che alla casa dei giochi Ma senti ancora l'audio? Io ci sento benissimo No Ok perfetto Ho tolto La condivisione Della scherma Minchia Ma ti posso dire Che quella È finita in maniera perfetta Sta roba qua Perché Sì Roshi Avanza Poi indietreggia un attimo E gli fa viffare la presa Poi Saluti Sì sì Già prima il mix up Del Primo Mantis Spalato Delay E poi Mantis X Con cui l'ha portato all'angolo Sì sì È stata una sequenza No È proprio L'essenza del third strike In questo round Sì Mi stanno scrivendo altre robe Mi sono distratto Perché Non è una questione di setup È proprio una questione di Mettere l'altro in certe situazioni E poi controllargli Cioè Controllargli la testa Sì Controllare Il flusso del gioco Fargli fare una roba Sì Piuttosto che fare tu una cosa No Tra l'altro Insomma Fondamentale per chi usa Ken Così Mi viene in mente Sì Sì Allora Diciamo che Se lo sai fare Ken ti premia Proprio tantissimo Niche No Cioè ci sono tanti Ken Che iniziano I primi round Facendo gli overheads Te cagate qua Vabbè Però cosa ti dà Prova invece Ad aprirgli la difesa E far entrare Un Un giu calcio medio Show Che ti carica Anche un sacco di barre Da lì Poi L'hai finita Però era una cosa Che diceva Five Star Diceva Sprecate Risorse Con Ken Apritegli la difesa E poi A quel punto lì Avrete anche Tutto il necessario Per batterlo Sì Sono d'accordo Poi sì È chiaro che Contro chi Non è esperto Ken vince Anche facendo Delle cagate Però Vabbè sì Però vale Con tanti personaggi Alla fine Fu Hai qualche video In caldo Ce ne vediamo un altro Allora In caldo Un secondo Un secondo Basta che mi mandi Il link Allora Dipende anche da quanto Vogliamo andare avanti Magari Beh sì Non vediamoci un video Da un'ora Ma un'altri 20 minuti Se può Allora Io butterei La finale Della prima Corporation Cup No addirittura No Dici Allora Non mi pensare Non mi pensare No quella ce la teniamo Per un'altra volta Io ho La cosciunata E un Il pregresso Anzi Della cosciunata Non ho il link In realtà Andavo a ripescarlo Però ho Un pregresso Incredibile Della cosciunata Allora Intanto tu cerca La cosciunata Tra l'altro Era la semifinale Precedente A questa finale Che abbiamo visto Esatto Sai cosa faccio Infatti ricordavo bene Sai cosa faccio Mentre tu Ravani Mostro L'albo d'oro Di Di questo Di la Corporation Cup Incredibile Vabbè È in giapponese Ma noi Fugo È in giapponese Cioè Ce lo Lo mastichiamo Proprio Sì E tra l'altro Vabbè Avevamo su Archelic Stream L'albo d'oro Tradotto da me Tutto il lavoraccio Che avevo fatto E stendiamo Un velo pietoso Su quello Che è successo Al sito Sì Sì Che ti devo dire Mi sento colpevole Ma Che dobbiamo fare Sì Comunque Ho ancora Il foglio di calcolo Da qualche parte Con tutti i dati Quindi Non è tutto perduto Ecco No vabbè Comunque Non dico Si sta un attimo A rifare Partendo da qua Perché non è vero Un cazzo Però No no Io avevo molti più dati Di quelli lì Ecco ecco Avevo fatto un lavoro Di ricerca Proprio Su tutte le top 8 Minchia No fu Tra l'altro Voglio dire Io ci metto Qualche Qualche nota Di colore Ma tu sei veramente La memoria storica Di questo gioco Cioè Ti ricordi delle cose Sai delle cose Che pochi al mondo Secondo me sanno Tra l'altro Come cazzo fai a ricordartele Bravo Eh Ma non lo so neanche io Poi non mi ricordo Cosa ho mangiato ieri Sono intelligenze diverse Sai come si dice Tu sei speciale Allora qua Sto evidenziando I finalisti Che abbiamo visto I vincitori I vincitori Il nome era Urawa Bulls qualcosa Perché loro sono Loro si trovavano Come sala giochi principale A Urawa Che è tipo E tra l'altro Vediamo che poi Rikimaru Boss e Mimora Si rifanno l'anno dopo No esatto Sono tornati Però hanno cambiato il concept Non più Boss Power Peach O come cazzo la chiamano No Peach Power Boss Ma Han detto Vabbè Sai che c'è Ci prendiamo Kokujin Che è uno che sa vincere Sì Ah Il nostro Mimorino A cui va tutta la simpatia Ci affianchiamo Chance Makoto Che è uno di Nagoya Così che è uno che ti dà una chance in più Giustamente Vabbè Ok Ok Lo sai L'intelligenza speciale Esatto E Sì Makoto di Nagoya Che quindi non si vede per niente In i video Però È uno dei giocatori storici Super solidi Non mi ricordo contro chi hanno vinto Ma lo scopriremo un giorno Poi l'anno dopo ancora Tra l'altro Attenzione Sì sì Ha fatto una doppietta Rikimaru L'anno dopo ha detto Sai che c'è la mando in vacca Faccio team con Rao Che vuol dire Ah Mandarla un po' in vacca Però Rao in realtà sotto sotto Cazzo Ha vinto tipo cinque coppe Una roba Quattro Ha vinto quattro coppe Guarda te lo dico subito Faccio una ricerchia Sì sì Carriato da Esatto Sempre trasportato da altri Quindi una è lì Eccola qua Una Due Tre Quattro Sì sì ma Lo so Perché poi Deshiken Ha raggiunto il suo record Ha eguagliato il suo record Ah vabbè Deshiken Che giocatore Un giorno parliamo Un giorno parliamo di Deshiken Eh sì 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 su Deshiken Potremmo fare una trasmissione Di tre ore Boh Senza esaurire Sì Sì scrivere un libro Allora Dicevo Dopo No Chance Ha fatto Come si chiama Sto team Mastakosu Master Course Piatto principale Però volevo dire L'ha buttata in vacca Perché Rao Così fa folklore E' un'altra chun Molto buffa Ecco mettiamola così Poi Vabbè Nitto No no Nitto Tanto Tanto di cappello Però questi due goki Che sono Kyabetsu E Game Center Game Center Arashi Kyabetsu È un giocatore Di che? Di Tekken tipo? Di Kof Di Kof Di Kof Super campione Però Attenzione Di Kof Che aveva anche vinto Il primo Togeki Di Street Fighter 4 E il nome del team Era tipo Kof è meglio Di Street Fighter E poi è stata La mega trollata Io giocavo con Viper Mi sembra Non si Parlare di Se lui Lui è Gosho Che erano Lo spalone Di Kof Viper e Rufus Hanno vinto Il Togeki Scimmiano Di impossibile Era il loro Momento d'oro Game Center Arashi Forse c'è Ho anche giocato Contro Però insomma Lui è un nome Che c'è sempre Stato Comunque Si però Non uno Dei goki Di riferimento Ecco Ha messo in piedi Sto team Di amici Simpatici Scappati Di casa E l'han vinta Poi 2016 Vabbè Che è l'anno Della rottura Della maledizione Di quello Ne parleremo In una trasmissione A fianco Ciao Omega Siamo rimasti In tre spettatori Dopo 40 minuti È un successo Un successo Mi sta chiamando Barbara d'Urso Vabbè Ma Magari Concludiamo Qui Come Come prima puntata Non lo so Ma Dimmi Hai ragione Ci sta Un 40 minuti Belli intensi Chiusi in bellezza Con l'albodoro Sì Sì Poi magari Prendiamo anche Qualche feedback Giusto O se non me li salva Spacco tutto Cioè se non mi salva Lo stream Spacco tutto Adesso Devo capire come funziona Non ne ho idea No perché Lo sto facendo Da stream yard E non so Dove spunti L'opzione Salva Non salvare Lo scopriremo Fugo Ci sentiamo Ciao Un saluto Anche Saluto a tutti I followers Ci sentiamo Penso Settimana prossima Una sera Sì Tanto Ok Ciao Ciao